Vostra signoria, forse non si lamenta più di me, ci incontrammo a Nolventon e ultimamente a Mobire, nelle mie memorie ben piacevoli d'altre meno recenti e di più peso, quelle vuol dire del cancellierato. Quel che da tutti era considerato signor della politica dovrebbe guidare ancora lo Stato. Cosa intendete che il cancellierato che voi fatto arcivescovo lasciaste, che fu da parte vostra grave errore, potrebbe essere ripreso. Pensate che il potere posseduto diventa gloria all'uomo di Dio, quale gloria, tristezza per coloro che danno il loro amore a Dio soltà. Ma il potere è presente, la santità viene dopo. E se comanda il re, quel che governa il cancelliere, e che daremo in cambio la pretesa della supremazia sacerdotana, si, se no sarà il valore bravo. Grazie. Grazie.